Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Oggi vi porto a scoprire questo campeggio aperto tutto l'anno. Siamo in Liguria, siamo a Sanremo. Vi do un parametro, sono in maglietta a maniche corte, ci sono 22 gradi e siamo al 7 di febbraio. Già, perché la Liguria è uno dei luoghi dove il clima è piumita, in particolar modo la provincia di Imperia. Tanto è vero che in origine veniva scelta questa zona, Bordighiera, Sanremo, come sanatorio proprio per chi voleva cercare una temperatura mite anche nella parte invernale e, vi dirò di più, i reali stessi, italiani, Savoia, particolar modo Margherita, aveva una predilizione proprio per Bordighiera e qui c'è proprio anche la villa della regina. Insomma, piccolo cenno per raccontarvi dove sono. Questo luogo non è un campeggio, non è un villaggio, sembra di stare dentro a un vivaio. Tutto è perfettamente pulito, ordinato. Il rumore che sentite è perché il mare è lì e le piazzole sono sia all'interno di questo vivaio e sia a riva mare. State lì e giriamo la telecamera. Si chiama Camping Villaggio dei Fiori ed è ubicato a Sanremo. La sua posizione è strategica sia per visitare l'entroterra della Liguria sia per visitare la Costa Azzurra. Dal campeggio partono diverse escursioni organizzate proprio dal team del campeggio, di cui Silvia è la referente. Il campeggio oltre a disporre di piazzole per camper caravan attrezzate di corrente elettrica e di lavandino per uso privato, anche di diverse tipologie di bungalow per vivere il glamping dalla maniera più tradizionale con un bungalow in muratura fino a quella più originale con bungalow in legno. Le piazzole sono disposizionate in modo terrazzato, ovvero quelle più in basso sono in riva al mare, quelle più in alto sono all'interno di questo meraviglioso vivaio a cielo aperto. Gli animali non sono accettati all'interno del campeggio. Il campeggio dispone nel periodo estivo della piscina, mentre tutto l'anno è aperto il ristorante con uno chef che prepara appositamente specialità liguri, come vedete il coniglio alla ligure. All'interno del campeggio trovate tre blocchi di servizi igienici, uno più vicino alla spiaggia, che è ad uso privato del campeggio sia su scogli sia su sabbia, e altri due blocchi all'interno del campeggio. Di questi uno in particolar modo è molto ben fornito con la lavanderia ad uso esclusivo degli ospiti, con reparto stireria e asciugatura, nonché il bagno per i più piccoli. Le piazzole sono adatte sia per veicoli piccoli, sia per motorhome di grandi dimensioni, addirittura anche con l'auto al seguito. All'esterno del campeggio trovate tutti i servizi di prima necessità, compreso anche un supermercato, farmacia. Ma la vera ricchezza di questo campeggio è che si trova proprio a ridosso della pista ciclabile e della passeggiata che porta alla vicina cittadina di Sanremo. Ma non soltanto Sanremo. C'è tutta l'entroterra della Liguria con i borghi storici da vivere e da visitare. Si chiama Riviera dei Fiori, questo scorcio di costa della Liguria, dove l'olio d'oliva e le olive taggiasche sono una delle prelibatezze che vi suggerisco assolutamente di acquistare. E poi godetevi la tranquillità, il rumore del mare dalla vostra piazzola. Nel periodo estivo, oltre alla piscina, potete scegliere una spiaggia su scogli con accesso con scaletta direttamente in acqua oppure un piccolo golfo privato con della sabbia grande dove poter stendere il vostro asciugamano o aprire la vostra sdraio. Ovviamente entrambi gli accessi avvengono, come vedete, tramite un cancelletto ad uso esclusivo di chi soggiorna nel campeggio. Ricordatevi di dire che siete amici di Cristiano, di chiedere di Silvia perché sicuramente saprà trattarvi nel migliore dei modi. Per questa puntata è tutto e come dico sempre, fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io.